Sei un po' di immagine di Grecia che sta migliorando i partiti e partite di giornata in giornata, migliora il rendimento, migliora gli automatismi, migliora la condizione fisica, è un'impressione o è così? Certo, io penso che siamo tutta una squadra nuova, è normale che ogni partita siamo meglio, secondo me dobbiamo fare come facciamo, lavoriamo tantissimo e dopo il lavoro pagherà. Dopo il buon pareggio la scorsa settimana adesso si torna a giocare in casa, importante un po' come aveva detto anche Boscaglia, che sia un fortino un po' in rigamonti, dove tutti devono venire qua e far fatica per portarsi a casa a punti. Noi sappiamo che a casa a tre punti portare è molto importante, abbiamo parlato tantissimo anche di questo, il spogliatorio che è a casa un po' diverso, sono tutti i nostri tifosi, è molto importante da vincere ogni partita in casa perché se vinciamo tutti in casa possiamo arrivare a 63 punti, ora abbiamo fatto un pareggio, una vittoria e speriamo che anche questo sabato vinciamo. E anche per te il Modena forse è una squadra un po' particolare, visto che l'anno scorso al tuo debutto quando sei passato al Cittadella hai segnato e anche a Cupis manca il gol. Sì certo, come dici tu, anche a me manca un gol e voglio fare un gol con tutti i costi, però più importante è il risultato della squadra e se io non segno però noi vinciamo è questo che sono. In Brescia con questo modulo che sto usando Boscaglia, un grande lavoro richiesto proprio ai due esterni, come ti stai trovando in questo ruolo che devi attaccare ma anche comunque difendere? Per me è un lavoro solito, io sono abituato a giocare in questo modulo e per me niente nuovo e io penso che ancora devo fare di più per la squadra. Tu puoi fare l'esterno, puoi fare l'intermediano in mezzo, quali sono le tue caratteristiche, quali sono le tue caratteristiche, quali sono le tue caratteristiche esterne? Sì, io sono abituato, come ho detto prima, a giocare in questo modulo 4-2, 3-1, 4-4-2 e dopo vediamo. Come sta andando il tuo ambientamento nella realtà, Brescia? Penso che è troppo diverso, in questo momento tutto è tranquillo, sono abituato bene con la squadra, siamo tutti ragazzi giovani e penso che è troppo diverso da un altro anno che ho parlato con venti, venti voli, ho parlato con Sesto e so che ora è un'altra squadra e ci sono un'altra, come si dice, esperienza. E poi mi sembra il fondamentale, per esempio, se guardiamo il canidario, sia soprattutto in casa, ma anche per i trasferti, magari senza prima o a vendino, sono tutte squadre da portata e quindi bisogna mettere tanti in Brescia. Certo, però noi dobbiamo continuare così come l'ultima partita contro Ascoli o Pro Vercelli, dobbiamo concentrare ogni partita, ogni prossima partita e dopo, se lavoriamo su questo, secondo me i risultati vengono. Secondo te il fatto che non abbiate preso gol nelle due partite dipende anche dal fatto che la condizione di due esterni è migliorata, nel senso se tu c'è l'emparo, appunto perché non siete richiamati al lavoro più in avanti perché dovete attaccare ma anche essere sempre per l'intervento in silvato. No, se il fatto che non avete preso gol in queste partite dipende anche dal fatto che il due esterni di due emparo è stato molto meglio, non potete dare un conto molto maggiore anche dietro. Certo, in questo modulo dobbiamo anche dare una mano alla difesa, però è normale, io posso solo parlare di me perché secondo me EMBA sta facendo molto bene, io devo, come ho detto prima, devo dare ancora di più e sto pensando di questa cosa ogni giorno e spero che se mi incontro a modulo. Ma dare ancora di più in che senso? Hai qualcosa secondo te? In che senso di gol, di assist, questo che mi manca. la nazionale è qualcosa che pensi in alcuni punti? No, in questo momento no. Il tuo obiettivo è di tornare in Chievo l'anno prossimo, ci pensi? Certo che penso solo di questo, il mio obiettivo è di giocare qua molto bene e dopo secondo me come ho detto prima con il lavoro che se lavoriamo bene, se lavoriamo come stiamo lavorando e il lavoro pagherà, se io gioco bene ogni partita dopo vengono altre cose e dopo il mio obiettivo è questo che è giocare così bene che posso dopo tornare a Chievo. Tanto ti stupisce, faccio un discorso, il campionato del Chievo, sta giocando un grande campionato lì tra le prime? Certo, ho visto anche partite del Chievo e ho visto gara contro l'Inter quando loro hanno perso, però ho visto che hanno giocato molto molto bene l'ultima partita contro il Suono e hanno pareggiato, però Chievo come ho visto io sta facendo molto molto bene. Se parlate prima del tuo ambientamento qui a Brescia, ti chiedo non solo nella squadra qual è il problema, ma anche quella città, come ti credo l'anno, se si spiano? Sì, è tranquillo, è una città molto diversa da questa di Cittadella perché Cittadella era piccolina e qua mi trovo bene, i tifosi sono bravi, non posso dire niente male di tutto. Sai che qua 15 anni fa Cosminski ha vinto un campionato, poi è molto giovane, è un bambino, non fa un giorno, seguivi, sapevi di Cosminski, ci hai informato con lo seguito quanti? Certo, io non conosco Cosminski, però so che giocatore era quando ho guardato la tv e sapevo che è un giocatore che ha giocato qua per qualche anno, era un giocatore molto importante per Polonia, ha giocato tutte le partite di Tullare e in qualificazione di Mondiale 2002, che dopo 16 anni Polonia è tornata in Mondiale. C'è qualcuno con cui è legato in particolare nel gruppo? Sono molto vicino con Emba perché abitiamo vicino, in stessa casa, in inizio, va bene, dopo con tutti i ragazzi mi sento bene. Li ha messo apposta vicini così correte anche in campo. Io quinto piano, lui terzo. Mi chiamate anche io ogni tanto. Sei un giocatore a cui ti sei ispirato comunque, che ti piace, non mette la ruota direttamente? Qua vediamo come Moro è un ragazzo ancora giovane, però come ho visto io, lui come vedo ogni giorno, che impegna tanto in ogni allenamento, vediamo io sono solo 5 anni o 6 anni, 5 anni più vecchio, però ho visto Moro bene e penso che lui può arrivare in Serie A tutto di bene da lui. A chi ti lanca il tuo libro, insomma, quando hai iniziato a giocare a calcio? A chi di non della squadra? No, no, ero piccolo. Ah, quando ero piccolo è un'altra cosa perché è una storia veramente da ridere, perché quando ero piccolo mio padre mi ha regalato sempre la maglia di Roberto Baggio quando ha cambiato le squadre e alla fine sono venuto qua questo anno e sono molto contento. Hai la maglia di Brescia di Baggio? Di Brescia no, però di altri. Di altri, sì. La gara da quando ero lì. La chiediamo a Baggio tramite i giornali. Grazie. Ok, grazie. Grazie.